I lavori di rifacimento di via Leorsini nel tratto a ridosso degli impianti sportivi di via Ippodromo stanno causando un danno economico ad alcune attività commerciali della zona. A denunciare il calo di introiti di oltre il 50% è il titolare del negozio Linea Sport Luigi Cipolletti che ha lanciato il suo grido d'allarme attraverso una lettera aperta pubblicata sui social e subito fatta rimbalzare sui vari canali di informazione. Cipolletti parla anche per conto di altre attività del quartiere praticamente ingabbiate dal cantiere e difficili da raggiungere. Basta guardarsi intorno e guardare come ci si può arrivare in questo posto è impossibile per chi non è del posto, per sia dei cittadini che passavano normalmente sui via Orsini che per turisti è impossibile arrivare. Inizialmente era stato transennato anche tutto il marciapiede e solo dopo il sopralluogo dei vigili urbani su richiesta degli stessi commercianti è stato ordinato alla ditta di lasciare quantomeno un passaggio pedonale. Le opere avviate in piena estate comunque stanno penalizzando gli esercenti presenti su questo tratto di via Leorsini. La seconda parte di questi lavori che è iniziata il 4 luglio sono stati apposti sia su via Galvani che su via Parma, quindi da sud e da nord dei divieti di transito ai non residenti. Quindi personalmente ero multabile da qualsiasi vigile urbano perché transitavo in strade dove io non posso transitare. Quindi la cosa grave, secondo me, ribadisco, è che proprio all'insaputa di tutti, di chi che sia qualcuno ha firmato un'ordinanza probabilmente su un divieto che è così messo lì senza rendersi conto di cose e di come probabilmente. Sicuramente è un danno per la nostra attività commerciale ma credo la mia denuncia, la mia lettera come è possibile effettuare dei lavori di questo periodo cioè questa è la mia domanda che sicuramente non troverò risposta probabilmente. Intanto sono stati abbattuti due pini malati individuati su via Leorsini dagli esperti botanici una volta ultimati i lavori di rifacimento della strada saranno sostituiti da altri alberi. Grazie. Grazie.